Vedo Pif in collegamento Skype, mi senti? Com'è che si chiamava il partigiano? Sergio Leti, partigiano Gim, mentre Vinicio Silva era il partigiano Gim, ma abbiamo nomi di battaglia meravigliosi, non so, il tuo nome di battaglia è Pif. Il definito della società, fa capire che stiamo andando a peggiorare. Io mi dichiaro partigiano del nuovo millennio, siccome ci sono gente che si definisce fascista del nuovo millennio, allora bisogna dichiararsi partigiano del nuovo millennio, non combatteremo con le armi, fortunatamente, ma con qualche altro modo. E però bisogna scegliere. Quello che ho imparato facendo queste, abbiamo fatto, non io personalmente, ma un gruppo di volontari che ha lavorato per un anno, 420 interviste a persone come Sergio e Vinicio che hai appena ascoltato, altri ne ascolteremo ancora, erano giovanissimi, una precocità straordinaria, eppure all'età in cui oggi magari noi consideriamo ancora bambini i nostri figli, questi hanno fatto delle scelte temerarie, sono dei rompiscatole ancora oggi visti come tali. Eh sì, io mi sono sempre detto cosa avrei fatto io, ovviamente dico sì, sarei andato in montagna a combattere, ma questo è un sé che non sapremo mai, di sicuro c'è che loro l'hanno fatto, e il problema è, ringraziando il cielo che li stiamo intervistando, perché prima o poi non ci saranno più, è la responsabilità di continuare un racconto che sarà nostro, e siccome abbiamo a che fare con gente che tende a gettarle in bacca, a sparare minchiate, opinioni discutibili, come dire che facciamo che il 25 aprile sia la festa in memoria di tutti i morti, ecco, è una responsabilità che prima o poi purtroppo dovrà arrivare e dovremmo essere preparati. Senti, quelli, tanto per non far nomi alla Ignazio Larussa, che hanno proposto di listare a lutto le bandiere oggi, 25 aprile, e di considerarla così, la commemorazione di tutti i morti, forse sarebbe stato più rispettabile se avesse ricordato che lui fin da ragazzo stava dalla parte di Mussolini e del suo alleato Hitler, ma questi vivono le testimonianze dei vecchi partigiani come un intralcio, un fastidio, forse anche perché i vecchi partigiani segnalano, avvertono che certe cose che rimbalzano, un certo clima che rimbalza oggi, gli è familiare, il nazionalismo esasperato, il razzismo, il maschilismo, questi partigiani sono come dei rabdomantici, stanno mandando dei messaggi? Beh, quando hai vissuto quello che hai vissuto credo che sia spontaneo, nel senso quando hai fatto quelle scelte là, è un'esperienza che ti fa capire molto di più, e il problema è che il fatto che non si spari più non vuol dire che... è chiaro che il fascismo non può tornare, nel senso Mussolino non può tornare perché è morto, è evidente, ma le sono appunto, i fascisti del nuovo millennio, ci sono altri modi per dire di essere fascisti, poi è chiaro che uno, oggi sentivo un partigiano di Bologna, che è una cosa avere la pietà per i morti, e tutti abbiamo pietà per i morti, ma è una cosa, è il giudizio su quello che facevano, ed è sempre lì la memoria, veramente sta arrivando un momento in cui purtroppo queste persone che c'erano, non ci saranno più, e toccheranno noi, e allora bisogna usare tutti i mezzi per continuare, questa è una forma di essere partigiani oggi. E poi forse un'altra cosa, l'ignoranza, una cosa che ne approfitto, per esempio la minchiata delle minchiate che dicono sempre i fascisti, le pensioni, è vero le leggi razionali, ma la pensione, per esempio per me è un classico che ti dico che la pensione l'ha inventata Mussolini, che è proprio il segno che non si sa se lo fanno, se sono ignoranti perché ci giocano o proprio sono ignoranti, che non è vero che l'ha inventata Mussolini la pensione. Tu ti sei fatto un'idea del perché Bella Ciao è diventata così contagiosa in senso buono, oggi abbiamo a che fare con un contagio del virus che ci fa molto male, ma com'è possibile che questa canzone italiana stia rimbalzando e diventando l'inno dei movimenti di liberazione di tutto il mondo, compresi i ragazzi di Greta, Friday for Future? E che parolosalmente ha più successo fuori, unisce più fuori che dentro. Io non mi posso scordare che un festival di Sanremo, credo che ci fosse Morandi, qualcuno disse facciamo canzoni popolari e uno disse Bella Ciao e l'altro disse no però Bella Ciao dobbiamo essere bipartisan e l'indomani cantiamo una canzone tipo faccetta nera o una cosa del genere, ma in Germania al festival della canzone tedesca, se uno avesse detto facciamo una canzone, cantiamo una canzone dei partigiani tedeschi, ci sarebbe stato mai qualcuno che si alza e dice sì però domani facciamo la canzone nazista? La verità è che lì hanno fatto un esame di coscienza che in Italia non c'è mai stata, c'è in Italia il cattivo era Hitler, noi sì al massimo è vero il piccolo errore, l'errore delle reggi razziali, però poi si stava bene, noi non abbiamo mai fatto l'esame di coscienza, non abbiamo mai, ci siamo mai detti che i treni per i campi di concentramento partivano dall'Italia o che siamo stati i primi a firmare le leggi razziali, per noi il cattivo è sempre stato Adolf Hitler, questo è il dramma di questo paese. Ti ringrazio molto Piff.